Shaila ci sta ascoltando, Shaila viene da Secondigliano, un quartiere di Napoli molto popolare, anche naturalmente problematico, anche se comunque all'interno per chi lo vive si vive anche bene, ma comunque non ci nascondiamo, ci sono delle difficoltà come in tanti altri posti. E tu hai vissuto forse lo stesso disagio, no? In un quartiere altrettanto popolare, alle porte di Milano. Certo, sì sì, io sono nato in un quartiere popolare di Milano, appunto vicino a Corsico, adesso mi sono trasferito da diversi anni, è un pochettino più tranquilla la situazione. Però insomma avete vissuto sulla pelle lo stesso disagio, tu e Shaila, forse per questo vi siete un po' ritrovati, tutti e due forti, un po' prematuramente. Sì, io l'ho capita subito, ho avuto, non lo so, l'ho presa a cuore subito quando mi ha raccontato queste cose. Allora sapete che vi dico, potete tornare in salone, però è bello vedervi così, così. Grazie a tutti. È una fortuna. Sì, sì, è bello. È stato bello. È stato bello, la misteri. Mi fa tutto, mi fa tutto, mi fa tutto, mi fa tutto, mi fa tutto. Grazie. Ma di che? Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Grazie a tutti.